Scenderanno in piazza anche cantanti, attori, cabarettisti e personaggi noti dello spettacolo per sensibilizzare le persone a donare il sangue e compiere una buona azione che potrebbe salvare la vita di qualcuno. Sabato 14 aprile in piazza Trieste e Trento dalle 9 alle 13 e in via Scarlatti dalle 15 alle 21 autoemoteche dell'Avis, l'associazione nazionale di volontari che si occupa della raccolta di sangue saranno in strada per accogliere tutti coloro che sceglieranno di partecipare alla donazione. È importantissimo donare il sangue perché purtroppo è un farmaco che non si costruisce in laboratorio quindi viene dalla spontaneità, dalla generosità e soprattutto dal motivo di solidarietà che ognuno può esprimere attraverso la donazione di sangue. Fate del bene e fate del bene. Anch'io, oltre al mio corpo, donerò il mio sangue. Il nostro sangue può aiutare una vita umana. L'iniziativa intitolata Osanghe, Chite e Vip è promossa dal club La Mondiang con il sostegno dell'assessorato alle politiche sociali del comune e vedrà artisti come Gino Riviecio, Lino D'Angio e l'attore di Un Posto al Sole, Patrizio Rispo protagonisti di un grande gesto di solidarietà. Il sangue è la vita, per cui come si fa a sottrarsi a un appello di questo? L'Avis ci chiama, noi rispondiamo. Non solo salvi una vita donando il sangue, ma poi è un'occasione per farsi un check, un controllo, un'analisi che dobbiamo fare almeno una volta all'anno e poi si rigenera il sangue togliendotelo. Questo fatto è importante, perché oggi posso via a me e dimana posso via a te. Non mi dite niente, io vado, salvo una vita e torno. I medici dell'Avis effettueranno inoltre un'analisi gratuita del sangue ad ogni donatore che riceverà gratuitamente a casa i risultati del prelievo e tutte le informazioni relative al gruppo sanguigno di appartenenza. Un'occasione ulteriore per dimostrare come i napoletani sono generosi nel donare il sangue affinché altre persone possano continuare a vivere. Siamo molto felici di sostenere un'iniziativa bella perché è un'iniziativa che si fonda sulla generosità del dono e un'iniziativa anche straordinariamente utile. Grazie.